CONSITO CONSITO Credo che ci sia un equivoco Cavallero caro tesoro amore della mia vita Io sono gay CONSITO L'età Ho un guaio Devo disegnare maglietti per i 25 anni Ma che ne so, ho 31 anni Ma come fai? 5 anni fa ne avevi 30 Che sia la dieta del minestrone Taci Ho un guaio Simone, lo stripper timido, sei innamorato di me Ma ho 33 anni E da quanti anni? Taci, e dov'è il problema? È troppo giovane, che ci faccio con uno di 24 anni? Ti basta un disegnino o vuoi un'animazione in 3D? Dai, mi vintano Gli chiedo i gusti dei giovani per le magliette Intanto tu ci pensi Quasi quasi Cosa fai gattazzo? La standing ovation per la prestazione Carmencita, perché io e te non ci siamo mai sposati? Quando te l'ho chiesto tu hai rifiutato Ma quando te l'ho chiesto io hai rifiutato tu? Non è vero, ho preso tempo per pensarci Due anni e mezzo fa È che tu sei nevrotico Se ti amo scappi E se mi allontano mi insegui? No, sei tu che fai così Abbreviazioni al cellulare? TVP, te voglio bien CVD, ci vediamo dopo QPF, qui es pieno de fi... Donne È sbagliato? Perché F se sono donne? Lascia stare, Anna Passiamo ai tatuaggi Quali vanno di più? Eh, io lo so Guarda che togo Forse ho peccato nelle vite precedenti No, tu hai peccato in questa Basta, tra noi è finita Addio Io non sono nevrotico Ma è stato nevrotico Eh, gattazzo Ti sembro nevrotico? Nevrotico a me Avevo deciso di sposarlo Ma non ho fatto il tempo a dirglielo Lui è il mio cugino George Hai È venuto a trovarmi Carmencita è stata presentata da Lavazza Ci vediamo venerdì prossimo Oppure su www.carmensita.it